ragazzi siamo qui a campo imperatore sono venuto qui in questo splendido posto per mostrarvi la mia nuova moto chi mi segue su instagram saprà sicuramente già di cosa sto parlando quindi vi invito a seguirmi su instagram trovate il link ovunque anche in descrizione ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo a lei iamaha tracer 900 stesso e identico motore della mia mt 09 motivo per il quale lei è qui fondamentalmente non è la mia moto ma è la moto di mio padre avendo la moto in famiglia comunque perché non prenderla per andare a fare un po di chilometri in comodità uno dei punti di forza di questa moto è proprio il comfort il comfort alla guida perché ragazzi siamo veramente seduti su una poltrona comoda alta siamo distesi con le braccia la triangolazione pedane sella e manubri è veramente molto molto comoda è una moto che ho scelto anche per il motore diciamo che sono innamorato del motore della mia mt 09 molto aggressivo cattivo dinamico sempre pronto ai bassi e ai medi agli alti da comunque grandi soddisfazioni ma purtroppo sulla 09 il comfort non è una delle sue qualità maggiori quindi perché non continuare a divertirsi ma in comodità prendendo il motore della mt 09 infilandolo sotto il telaio di questa tourer che comunque non è una delle più grosse ma comunque regala tante emozioni ragazzi questo era semplicemente un video di presentazione in cui vi mostro la moto il video in cui vi racconterò tutte le mie sensazioni in sella e vi parlerò un po più specificatamente di questa moto sarà il video del test ride video molto corto video che probabilmente non interesserà a nessuno come tutti i miei video bastardi guardatevi seguitemi sto scherzando ma seguitemi quindi per questo video è tutto io come al solito vi rimando a un prossimo video iscrivetevi al canale lasciate like commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di questa muccozza seguitemi su instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video ciao ragazzi ciao